Allora Vai vai Via Goal Dieci Dieci Accidenti E adesso si fa veramente Azione Fosinia Che è fatto Eh Quindi subito inizia il secondo Tempoli Armaglia sembra ripresa di un altro cuore iniziale Eh sì sembra aver ripreso in gioco un altro piglio Crede nelle sue possibilità Ma sicuramente l'Argentina non starà a guardare A posto in palio troppo alto Non 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 Sì, è una tinta. Ah, c'è un scello. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no C'è la distanza Dentro l'aria, no? No, 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 no Non sono definito il giocatore Sei immolato Ok Grazie che è il primo angolo per la Germania è un mondiale ragazzi poi ho detto quando hai arrivato un'unice infatti i certi gli avevamo detto anche noi veniamo ai certi a spiegato questo si è fuori si è fuori si è fuori si è fuori l'amico l'amico passato l'amico l'amico un presentino la prima Germano e poi il gioco? aspetta no fa come, fa come tribuna Montemario ah Mario che cosa è? eh che cosa è? che cosa è? la tensione ce l'ha agli affitti 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 Grazie. 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 Germania. Così. No, non l'ha presa. Non l'ha presa. Non l'ha presa. A me non mi pare proprio. Voglio... Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah, l'ha presa un'arma. Oh, si. a via a via a via Germania 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 a via a via Argentina Germania 3 minuti e chiedo 3 minuti 3 minuti è troppo ma sei giocato è facile è la vergogna un Presidente un Presidente due uno e due moreno non si smettisce ma riempie poi questo questo Argentina Germania non 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 ma Germania e Argentina no 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 A presto, a presto. A presto.